Winston non si produce niente dal pick and roll, allora Smith deve forzare da tre punti! Palla un po' pigra di Uglietti per Smith, non c'è stato cambio di possesso ma alla fine è tutto buono. Smith palleggio, il resto tiro da due punti è realizzato. Esce Jamar Smith, blocco di chillo su di lui Booth, Jamar Smith complicatissimo, gioco! Probabile da quattro punti di Jamar Smith! Seguiamo il movimento di Jamar Smith, ovviamente a salire e ricevere, ultimi otto secondi, che deve prendere blocco, poi attacca, tiro, complicatissimo, Jamar Smith! 20.10 secondi, vuole attaccare Nikolic, Smith, uno contro uno, crea separazione Jamar Smith!